Bene, vediamo come piegare il tovagliolo in questo modo a conchiglia. La base di partenza per piegare il tovagliolo in questo modo è un tovagliolo di forma quadrata che andiamo in questo modo a piegare a metà. Ora, con il lato questo rivolto verso noi e la piega in questo modo, con questo angolo, andiamo qui al centro. Con i pollici della mano destra e sinistra ci appoggiamo in questo modo, ripieghiamo tirando su con l'indice il fazzoletto così in maniera tale che abbiamo creato questa piega. Ora andiamo qua alla piega di centro, i pollici della mano destra e sinistra li appoggiamo così e tiriamo indietro. A questo punto capovolgiamo il fazzoletto, prendiamo il centro con l'indice della mano sinistra, andiamo qua, stendiamo bene, andiamo a creare questo triangolo, tutto questo va sotto, si prende il fazzoletto e si appoggia al di sopra del piatto. Lasciamo andare e avremo la conchiglia che si apre, lasciamo andare anche qua e abbiamo la base che ci tiene il piatto fermo. Andiamo a vedere in tutte le angolazioni, in questo modo abbiamo messo il tovagliolo sul tavolo in modo decorativo.